Lunedì 22 di aprile, bentrovati, buon inizio di settimana, subito con la cronaca. Gli uomini del commissariato di Senigania sono riusciti a risalire all'identità del soggetto che nella giornata del 21 di febbraio scorso, in tarda mattinata, si era reso autore di un furto all'interno della bacheca votiva posta nella chiesa del portone. Si tratta di un uomo della Repubblica Ceca di 47 anni e stato denunciato per furto aggravato. I carabinieri di Senigallia hanno denunciato per il reato di agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti un 29enne tossicodipendente pregiudicato di Senigallia e per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope una 32enne tossicodipendente anche lei pregiudicata di Senigallia. I carabinieri di Ripe invece hanno segnalato alla prefettura di Ancona per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti due minorenni entrambe di 17 anni. Sono stati sorpresi a detenere ascisce dal personale addetto alla sicurezza di un locale pubblico. Giriamo pagina, un ospite di eccezione al Panzini di Senigallia, Marisa Dubbini, al ristorante storico da Emilia di Portonovo. Docente per un giorno ha incontrato gli alunni di alcune classi, ha catturato subito l'attenzione ma soprattutto il cuore e la mente di tanti giovani che hanno molto apprezzato le sue parole. Una lezione fondamentale quella della sua vita, della sua famiglia e della sua amata Portonovo. Pallavolo Senigallia, vittoria della Dea Gourmet sul Colbordolo in servizio. La Dea Gourmet, la squadra femminile dell'OS Pallavolo Senigallia, sabato sera ha battuto per 3-0 il Colbordolo anche in gara 2 della semifinale play-off della Serie D femminile. E si qualifica alla finale contro il Ciuccio Fida. Beh, un traguardo importantissimo, devo dire che a questo punto siamo davvero ad un passo da quell'obiettivo, da quel sogno che stavamo coltivando, che stiamo coltivando da anni. Passo che può essere brevissimo come può essere lunghissimo. Stasera ci godiamo questa bellissima vittoria in un campo difficilissimo come quello del Colbordolo. Bottega ha fatto una grande partita nonostante il 3-0, una partita giocata pallone su pallone, punto su punto, difesa su difesa. Devo dire che onore alla Bottega e soprattutto un grande applauso alle nostre ragazze che stasera sono state concentratissime, a parte un paio di momenti in cui fisiologicamente sono calati ma poi si sono immediatamente riprese. Bravo Bottega, bravi noi e a questo punto davvero cominciamo a sognare. Ancora sport, il tennis tavolo Senigallia trionfa al tredicesimo campionato razionale, compare in bella evidenza nella home page del sito CSI, centro sportivo italiano che riporta in sintesi i risultati della manifestazione di Lignano, sabbia d'oro. Con 151 punti Senigallia distacca la Pol Piancamuno della Valcamonica a 145, gallarate di Varese a 108, confermandosi per la quarta volta consecutiva la società leader d'Italia. Riconoscimento alle nazionali paralimpiche russa e ucraina, vediamo. Riconoscimento del comune di Senigallia alle nazionali paralimpiche di Russia e ucraina. Gli atleti della nazionale paralimpica russa e ucraina ospiti nella città di Senigallia in preparazione per il progetto Rio de Janeiro. Siamo davvero felici di poterli ospitare, lo sport chiaramente sta, grazie alla nostra impiantistica di eccellenza, sta veramente proponendo un turismo molto interessante con tante società sportive che decidono di scegliere la nostra città anche in momenti di alta stagione e questo con un grande gradimento delle nostre imprese turistiche, delle nostre strutture ricettive e anche e soprattutto delle nostre attività economiche del centro storico e dei lungomari perché chiaramente queste società sono molto organizzate e hanno anche delle grandi possibilità. È il terzo anno che fanno in ritiri a Senigallia, quindi la presenza russa e quest'anno per la prima volta anche dell'Ucraina vuole veramente segnare questo nuovo aspetto del turismo sportivo che risponde alle esigenze delle tante società sportive agonistiche che chiedono servizi di qualità e soprattutto chiedono anche un ambiente sano, tranquillo e anche naturale. E questa era l'ultima notizia, ringrazio Samuele Pasquini per la collaborazione, l'appuntamento è per l'edizione di domani. Grazie a tutti!